Mi raccomando, prima di tutto, stacca la tensione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche questa settimana sul mio canale. Questa volta vi parlo di un quadro elettrico, sempre secondo la norma C64-8, ottava edizione. Questo è un quadro da 12 posti, quindi andiamo a fare una configurazione con 3 elementi più la protezione per la linea montante. Io ho già portato una linea da 10 mm quadri. Perché 10 mm? Perché voglio che il mio quadro possa essere modificato in futuro senza spendere e buttare soldi. Quindi io con un quadro del genere posso passare da 3 kW al 6 kW senza andare a fare alcuna sostituzione, ma soltanto andando ad aggiungere eventuali altri magnetotermici. Quindi ci andiamo anche a portare la linea della messa a terra. Anche la linea della messa a terra in questo caso chiaramente sarà da 10 mm quadri. Per prima cosa ci andiamo a spellare la nostra cordina da 10 mm quadri. Per quanto riguarda il crimpaggio, soprattutto dal 6 mm in su, ricordatevi sempre di fare due o tre crimpate per puntalino, perché purtroppo queste pinze di fascia economica, pur essendo di buon livello, hanno il problema che dal 6 in su lasciano un po' a desiderare per quanto riguarda la qualità del crimpaggio. Ora questo lo vado a accorciare perché è troppo lungo, altrimenti poi mi resta sporgente dal morsetto. E stessa cosa faccio anche per la fase. Prima di iniziare volevo dirvi che questo video è stato realizzato in collaborazione col portare online www.voltaire.it Qui ho trovato tutto quello che mi serviva per questo video e mi hanno fatto anche degli ottimi prezzi sull'acquisto. In più mi hanno realizzato, per il canale, dei kit specifici per questo genere di quadri elettrici. Se non volete cercare i singoli componenti, ecco tre kit pronti di tre marche diverse, Kint, Aege e Snyder. Li potete comprare e dare direttamente al vostro installatore. In più mi hanno promesso molto presto un codice sconto da abbinare al mio canale per gli acquisti online. Mi raccomando, dateci un'occhiata perché il sito è fatto davvero molto bene e soprattutto a ottimi prezzi. Per il collegamento io ho scelto un sezionatore, in questo caso da 40 A, sempre per il discorso di essere preparato per l'upgrade futuro. Quindi 40 A mi consente anche di andare a fare una richiesta di 6 kW e di sfruttare poi 6 kW al massimo, cioè fino a 8,4 kW. Quindi questo è un sezionatore, non ha in realtà neutro e fase, però per una questione di compatibilità con l'installazione degli interruttori che andrò a mettere a valle, dovrò comunque rispettarlo. Quindi ricordatevi che Snyder, a differenza delle altre marche, ha il neutro a sinistra e la fase a destra. Quindi andiamo a mettere neutro a sinistra e fase a destra. Per quanto riguarda il collegamento è estremamente semplice. Basta un cacciavite a stella, poi andiamo a mettere anche il filo di fase. Il serraggio finale lo possiamo fare con un cacciavite a taglio, perché con cacciavite a taglio si ha una maggiore capacità di torsione. Poi per inserire l'interruttore su questa che è la guida DIN, basta prendere questa parte dell'interruttore, agganciarla sul profilo e poi spingere in avanti. Per quanto riguarda invece il controllo e la gestione delle linee, il circuito delle prese ho scelto il classico 16A. Questo è un magnetotermico differenziale, quindi fa tre cose. Vi protegge dalle dispersioni, dalle sovracorrenti e dai cortocircuiti. Ha la funzionalità per individuare se il problema è un cortocircuito o una dispersione, perché se c'è dispersione praticamente si abbassa tutto e vedete la linea rossa. Se invece ci fosse un problema di tipo magnetotermico, si abbasserebbe soltanto questa leva. Questo è un 30 mA come sensibilità di intervento dal punto di vista delle dispersioni, però è di tipo A, quindi non è un semplice AC. Mentre invece questo qui per la linea delle luci è semplicemente un tipo AC. Questo è più costoso, mi pare, venga circa una sessantina di euro. Quindi per quanto riguarda la corrente di cortocircuito, 4500 A. Per quanto riguarda l'installazione, voi non dovete fare altro che andare a premere i meccanismi, in modo che si attivi questa molla, lo andate a inserire e lui automaticamente si blocca sulla barra DIN. Stessa cosa andiamo a fare anche per questo. Questo invece è un 10A, più che sufficiente per gestire le luci di un piccolo appartamento. Sempre 30 mA come soglia di intervento per quanto riguarda le dispersioni, 4500 A per quanto riguarda il potere di interruzione del cortocircuito, lo andate a inserire. Per quanto riguarda il collegamento del tutto, invece di utilizzare le odiose cordine, andiamo a utilizzare questo che è un pettine proprio fatto dalla Snyder. Lo andate semplicemente a inserire sopra e avete un collegamento perfetto, assolutamente sicuro. Vi avete anche un quadro snello pulito, di facile accessibilità. I morsetti sono disegnati, disposti diciamo in modo differente tra questo tipo di interruttore e questi altri. Quindi l'ideale è utilizzare questi che sono dei pettini che sono stati creati proprio dalla Snyder per ovviare a questo problema. Quindi si inserisce in questo modo e poi si vada a stringere i morsetti. Una volta che abbiamo finito di stringere i morsetti, praticamente il cablaggio della parte superiore è già finito. Per questa parte invece che resta scoperta, sono disponibili questi tappi, che sono sempre isolanti, che vanno inseriti in questo modo. E vanno praticamente a chiudere, a sigillare ogni parte in tensione che resta scoperta. Se c'è bisogno, in futuro si possono aggiungere altri elementi, semplicemente staccando questi tappi. Se invece vi piacciono le cordine, vi rifaccio vedere la procedura. Quattro puntalini capicorda da 6 mm e due puntalini capicorda doppi, per un totale quindi di 12 mm quadri. Lunghezza più o meno 10-12 cm. Andiamo a spellare. Quindi abbiamo detto, il primo lo andiamo a crimpare quindi con un 6. Secondo me questa è la migliore crimpatrice economica che c'è sul mercato. Ci faccio una recensione apposita, però vi assicuro che è davvero uno spettacolo. La cosa molto importante, quando andate soprattutto a utilizzare i puntalini doppi, dovete tirare bene i fili, per evitare che quando inserite il puntalino doppio, tornino indietro e si attorciglino. E poi andiamo a inserire. Dovete fare attenzione che escano tutti quanti i fili dal puntalino. E poi andiamo a crimpare. Come al solito, un paio di crimpate minimo. E poi proseguiamo con i due singoli laterali. Ecco, una volta che ce li siamo accorciati, possiamo andarcela a installare. Quindi ci andiamo a piegare prima la cordina. Abbiamo detto, ai lati c'è quella singola, mentre invece quella centrale è quella doppia. Andiamo prima a inserirli tutti e tre, poi andiamo a stringere i morsetti. Schiacciamo chiaramente le cordine, in modo da poter inserire il filo in sicurezza. Ecco qua, installazione effettuata. Per quanto riguarda il collegamento della linea di messa a terra, questa è una piccola barra equipotenziale, l'avete già visto nei video precedenti. Mi sembra che sia di marca Arno Canali, comunque vi metto il link in descrizione. Meglio mettere il lato dei contatti opposto rispetto a quello degli interruttori. Questa si può sia agganciare che far scorrere da un lato e inserirla. Dobbiamo, diciamo, sagomare un attimo il filo di terra per quello che è la necessità. Una cosa di questo genere, direi di fare una sorta di curva e poi di andarcelo a tagliare. E poi mettiamo il puntalino capicorda e andiamo a crimpare. A questo punto il consiglio è fare una piccola curva in questo modo, in modo che potremmo gestirci molto più facilmente il collegamento. Si porta fino in fondo e poi si stringe il morsetto. Una volta che avete stretto il morsetto lo potete, diciamo, spostare verso destra e qui avete ancora spazio almeno per due interruttori da due moduli. Subito a valle del contatore troviamo un piccolo quadro elettrico come questo in cui andremo ad inserire questo che è un magnetotermico da 40A. Io ho scelto il 40A semplicemente perché volevo dotare il quadro di una predisposizione anche per eventuali ampiamenti di chilovattaggio. Quindi questo qui è già perfettamente in grado di sostenermi tutto il passaggio, diciamo, di corrente fino a 40A. Per il collegamento è molto semplice, quindi vado a prendere la fase neutro che vengono dal contatore e la fase neutro che invece vanno al quadro elettrico e li collego i primi nella parte superiore e i secondi nella parte inferiore. Mi raccomando, crimpate sempre due volte quando utilizzate i prodotti non professionali, soprattutto dal 6 mm quadro in su. Quindi questa è la linea che viene dal contatore. Ricordiamoci sempre che Snyder Electric, fase a destra, neutro a sinistra. Chiaramente questa linea, sia in entrata che in uscita, dovrebbero venire dai fori che sono appunto da praticare sulla base di questi piccoli quadri elettrici. Praticamente viene il corrugato dalla parte di dietro, entra ed esce il filo e poi va fino al quadro. E ora vado praticamente a fare la stessa cosa dalla parte sottostante. Ricordandomi sempre di rispettare il posizionamento di neutro e fase. Vado a controllarmeli comunque col cacciavite a taglio. Ecco, questo praticamente è lo schema finale della nostra installazione. Questo si va a installare sulla barra DIN di questo piccolo quadretto e questo va a fare la protezione per il mio montante, dalle sovracorrenti ma soprattutto dai cortocircuiti, con un potere di intervento di 6000A. Ho scelto la 10 mm per poter essere in grado in futuro di poter espandere il mio quadro per assorbimenti maggiori. Non solo quindi chiedere un 6 kW, ma poter sfruttare anche il 40% in più per 3 ore del mio contratto da 6 kW. Quindi arrivare fino a 8 kW in totale sicurezza, perché questa cordina da 10 mm quadri del montante mi regge ben oltre i 50 A. I sezionatori non hanno protezione dalle sovracorrenti, quindi vanno messi sempre un po' più grandi in termini di corrente nominale rispetto alla massima corrente che si ipotizza vi possa passare attraverso. Quindi questo sezionatore mi fa da generale del quadro. Ora, anche se non è assolutamente indispensabile, perché nessuna normativa in ambito civile obbliga l'installazione di un generale, ma è sempre bene metterlo in modo che si possa con un solo comando sezionare tutto l'impianto. E poi se qui consideriamo che possiamo andare a fare degli upgrade futuri, mettere molti altri elementi, interruttori, oppure collegarci addirittura il sottoquadro della cucina, avere la possibilità di interrompere con un solo gesto è molto molto comodo. A valle del nostro sezionatore ci sono due magnetotermici differenziali che li ho inseriti per una soluzione tutto in uno per essere in regola con la normativa sulle dotazioni minime. Le dotazioni minime infatti mi dicono che io devo avere due circuiti che siano tutti e due protetti dalle correnti differenziali. Chiaramente poi ci vogliono anche le protezioni dalle sovracorrenti e dai cortocircuiti, ma con questa soluzione, magneto, termico, differenziale, io ho praticamente la soluzione perfetta e in solo quattro spazi. La tensione che poi esce dalla parte soprastante del mio sezionatore entra all'interno delle parti soprastanti di tutte e due magnetotermici differenziali attraverso questo pettine, che è un pettine specifico della Snyder, proprio per fare questi collegamenti senza, diciamo, cordine, senza ponticelli, per avere davvero una installazione a regola d'arte super pulita. Poi da qui sotto dovranno uscire i collegamenti che andranno alla scatola di derivazione sia per il collegamento delle prese elettriche che per il collegamento delle luci. Da qui, in un prossimo video, se volete, partirà una linea da 6 mm che andrà a collegarsi poi all'interno di una scatola di derivazione e qui invece per quello che riguarda la linea luci potrò partire con una linea da 2,5 mm quadri minimo. Da lì poi andranno fatti tutti i collegamenti per gli utilizzatori finali. Per quanto riguarda invece la linea di terra, in questo caso questa linea io ipotizzo che venga direttamente da un nodo equipotenziale del condominio. Ecco perché io mi posso permettere di mettere una linea da 10 mm che deve essere sempre per norma 6 pari alla linea del montante. Se però questa linea venisse direttamente dal paletto, cioè il famoso dispersore del terreno, la linea dovrebbe essere di minimo 16 mm. Per quanto riguarda poi l'installazione della linea dalla parte sottostante per l'alimentazione è assolutamente consentita. Questo tipo di interruttori può essere alimentato sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore. Potrebbe essere utile magari aggiungere un'etichetta per ricordare a chi avete fatto un'installazione con la tensione dalla parte sottostante. Questa è una parte del nostro impianto elettrico. Abbiamo il contatore che eroga tensione attraverso il montante. Questo è un montante da 10 mm quadri. Il montante poi si inserisce all'interno di un magnetotermico, esce dal magnetotermico, entra poi nel quadro elettrico e va agli interruttori all'interno di questo quadro elettrico. E poi qui c'è il collegamento di terra. Ma la cosa molto importante è che questo contatore può essere sia in casa nostra oppure può essere anche in un vano condominiale, quindi molto distante dal contatore. Per la norma CEI 021, ultima edizione, che è quella di aprile 2022, io ho l'obbligo di proteggere il montante, cioè praticamente quello che porta tensione al quadro, con un magnetotermico. Un magnetotermico da 6.000 A di potere di interruzione. Perché? Perché la norma CEI ipotizza che subito a valle del contatore ci possa essere un picco di corrente di cortocircuito fino a 6.000 A. E' per questo che io devo avere un interruttore che sia in grado di aprire il circuito fino a 6.000 A. Ecco perché questi interruttori si trovano sempre sotto i contatori, quindi subito a valle del contatore, perché è proprio in quel punto che si può sviluppare la massima corrente di cortocircuito. Con un montante da 6.000 m2, come nella maggior parte degli appartamenti appena ristrutturati, e una lunghezza maggiore di 3 metri del montante, abbiamo l'obbligo di mettere il magnetotermico a valle del contatore. È un magnetotermico da 6.000 A di potere di interruzione. Qui però, spassati 3 metri di lunghezza del montante, possiamo mettere tranquillamente magnetotermici da 4.500 A di potere di interruzione. Se la distanza invece, sempre con una cordina da 6 mm quadri del montante, è inferiore a 3 metri, non abbiamo l'obbligo di mettere questo magnetotermico. Però nel quadro dobbiamo mettere tutti i interruttori da 6.000 A di potere di interruzione. Con una sezione da 6 mm, con il classico contratto da 3 o 6 kW, dopo i 3 metri la corrente di cortocircuito scende da 6.000 A a 4.500 A. Quindi diciamo che più ci allontaniamo dal contatore, più aumenta l'impedenza e minore sarà la corrente di cortocircuito. Se invece aumentiamo la sezione e postiamo un montante da 10 mm quadri, dobbiamo salire con una distanza a 4,1 metri, quindi 3 metri non bastano più per far scendere, diciamo, la corrente di cortocircuito da 6.000 A a 4.500. Dopo 4,1 metri possiamo mettere i nostri magnetotermici da 4.500 A di potere di interruzione nel nostro quadro. Se la distanza invece è inferiore a 4,1 metri, non abbiamo l'obbligo di questo magnetotermico, ma dobbiamo mettere magnetotermici da 6.000 A di potere di interruzione. Quindi a paretà di lunghezza in un filo elettrico, maggiore la sezione e minore l'impedenza. Quindi se per un 6 mm basta superare i 3 metri per scendere da 6.000 A di corrente di cortocircuito a 4.500 A, con una sezione da 10 mm, noi invece abbiamo bisogno di 4,1 metri per scendere da 6.000 A come corrente di cortocircuito fino a 4.500 A. In questa configurazione e solo in questa configurazione io ipotizzo il contatore, una distanza superiore a 4,1 metri tra queste due parti, ho messo il mio magnetotermico a protezione del montante con un potere di interruzione 6.000 A e qui nel quadro io posso utilizzare tutti quanti interruttori con potere di interruzione da 4.500 A. Se invece avessi avuto una situazione invece con un contatore e un quadro elettrico vicini, io avrei dovuto utilizzare un quadro con tutti quanti interruttori con un potere di interruzione da 6.000 A. Anche per questa settimana il video termina qui. Mi raccomando, se ti interessano questi video, iscriviti, lasciami un commento e non dimenticare di attivare le campanelle, così quando escono sei avvisato. Noi ci vediamo la settimana prossima, un saluto a tutti!